partiti con un'andatura abbastanza veloce per una 15.000 eliminazione siamo già a meno 72 hanno compiuto già tre giri meno 70 attenzione mantengono sempre un'andatura abbastanza sostenuta 2.13 di gara stanno per completare l'ottavo giro siamo a meno 67 al passaggio sono in doppia fila si alternano le prime posizioni ripeto un'andatura abbastanza sostenuta subito dai primi giri meno 66 al passaggio guarda che vale guarda che vale prossimo passaggio siamo a meno 64 ed ora attenzione perché prossimo passaggio sentiremo suonare la prima campana campana al passaggio prossimo passaggio prima eliminazione siamo a meno 62 434 farina alberto ritorniamo alla campana di meno 61 al passaggio al passaggio eliminazione attenzione eliminazione e per il numero 5 niero mattia meno 59 campana Eliminazione di meno cinquattotto Quattro, sette, due Alborino Ettore eliminato per taglio di percorso Siamo ora all'eliminazione di meno cinquantasei Eliminato per taglio di percorso il duecentoquattordici Ferracin Filippo Ferracin, fermati Prossimo passaggio, siamo all'eliminazione di meno cinquantaquattro Ed è il trecento trentadue Alario Fabio Campana di meno cinquantatré Prossimo passaggio, entriamo nell'eliminazione di meno cinquantadue 443 per taglio di percorso Bigin Andrea Il prossimo passaggio, siamo a meno cinquanta Eliminazione Ed è il numero 387 E' già in corso un'altra eliminazione Posto al prossimo passaggio a meno quarantotto 163 Bianco Marco Antonio Prossimo passaggio, è l'eliminazione posta a meno quarantasei Intanto siamo a otto e quarantotto di gara Mandatura sempre validissima Eliminazione al passaggio Eliminato per taglio di percorso il 487 Francolini Ivan Campana di meno quarantacinque Prossimo passaggio, siamo all'eliminazione di meno quarantaquattro 122 per scorrettezze Iacono Alessio Prossimo passaggio, siamo all'eliminazione di meno quarantadue E' il numero 208 Dinuzzo Gabriele Prossimo passaggio, siamo all'eliminazione di meno quarantasinque 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 350 e 412 ammoniti 350 e 412 ammoniti Attenzione, 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 attenzione alla caduta, attenzione, attenzione Attenzione, attenzione, attenzione Intanto l'ammunizione del 135 era l'atleta caduto che è stato eliminato ed era il 183, prossimo passaggio siamo all'eliminazione di meno 38. Eliminazione, 376 soldati Filippo. Siamo a metà gara, meno 37 campana, prossimo passaggio eliminazione che è posta a meno 36. Eliminazione al passaggio. 366 per taglio di percorso, Fortuni-Guglielmo. Ritorniamo all'eliminazione, siamo a meno 34. Eliminazione al passaggio. 235, Conte Giovanni. Eliminazione al passaggio, meno 32. Ed è il 412, Tussetto. Campana di meno 31. Ammonito il 135. Seconda munizione entra in difida. Eliminazione di meno 30. Eliminazione al passaggio. 222, Baldini-Luca. Al passaggio, eliminazione di meno 28. Intanto siamo a 14.25 di gara. Eliminazione. Ed è il numero 159, Casadei Matteo. Prossimo passaggio. Prossimo passaggio è l'eliminazione di meno 26. 365, 416 eliminati per scorrettezza. Allora, il 365, Manera e il 416, Martina, Leonardo, devono fermarsi. Siamo all'eliminazione di meno 22. Il 416 era squalificato. ed è il 297, Angeletti-Matteo. Campana di meno 21. Prossimo passaggio, eliminazione di meno 20. ed è il 427, Galli-Gabriele. Siamo scesi a meno 18. Al prossimo passaggio, sempre eliminazione. Eliminazione al traguardo. 3, 5, 9. Geronazzo. Siamo all'eliminazione di meno 16 al passaggio. ed è il numero 90, Campanelli-Matteo. l'eliminazione di meno 14. ed è il 157, Campanelli-Matteo. Ed è il 157, ci stò la Giuseppe. . . . . . Ed è il 114 Marzili Buongiorno Alziamoglielo l'applauso a Cuncu Campana di meno 9 Eliminazione di meno 8 E' il 283 taglio di percorso Cuarona Edoardo che deve fermarsi per taglio di percorso Siamo ora alla campana di meno 7 Prossimo passaggio meno 6 Terz'ultima eliminazione Terz'ultima eliminazione al passaggio Ed è il numero 83 di Dio Trebastoni Ultimi 5 giri Campana Ammunito il numero 8 Prossimo passaggio meno 4 Penultima eliminazione Ed è il numero 8 Martino Campana per gli ultimi tre giri Ed ora attenzione Prossimo passaggio meno 2 Ultima eliminazione al passaggio al traguardo Ultima eliminazione Ed ora attenzione Ed era il 135 Amabili Davide Campana Ultimo giro Accompagniamo con l'applauso E' l'ultima gara Se lo meritano Hanno fatto una gara abbastanza sostenuta Si giocano il titolo italiano assoluto Sono i senior maschi Prima, seconda e terza Prima, seconda e terza Dimmi, dimmi, dimmi Dimmi i numeri Grazie 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 Grazie.